La procura della DDA di Catanzaro ha depositato oggi la richiesta di rinvio a giudizio per 51 indagati nell'ambito dell'operazione Chiterion che ha svelato i traffici illeciti del clan Grande Aracri di Cutro. Nei prossimi giorni l'ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro fisserà l'inizio dell'udienza preliminare. L'inchiesta condotta dai PM Vincenzo Capomolla e Domenico Guarascio con il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri aveva portato il 28 gennaio scorso all'arresto di 34 persone. Si aggrave il bilancio dello scoppio accidentale di una bombola di GPL verificatosi domenica scorso intorno alle 13 in località Coppolillo a San Marco Argentano dopo la morte dell'87enne Giuseppe Lombardo avvenuta nella notte tra lunedì e martedì mentre era ricoverato al centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari sale a due il bilancio delle vittime. Oggi è deceduta anche la moglie dell'anziano Pierina Mazzei di 87 anni che era rimasta ferita assieme alla nipotina di soli 4 anni. 47 lavoratori precari del comune di Pizzo Calbero hanno messo in atto un sit-in di protesta dopo che sono stati allontanati dagli uffici comunali a seguito di un provvedimento dirigenziale di revoca dal servizio. L'espediente nascerebbe da un ritardo nell'invio della documentazione relativa alla contratualizzazione degli LSU e LPU che non ha permesso al ministero competente di erogare i fondi necessari per la stabilizzazione dei lavoratori che hanno incaricato un legale di procedere ad inoltrare una lettera di diffida al comune Napitino. Antonella Croglianola, da maniera responsabile del coordinamento tecnico-amministrativo di ANAS arrestata il 22 ottobre scorso assieme ad altri 4 funzionari per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, potrebbe aver avuto rapporti con l'Andrangheta a sottolinearlo il Tribunale del Riesame di Roma.